Ciao artisti, questa settimana vogliamo presentarvi la nuova wireless tattoo machine firmata EZ, la penna Portex V2. Questa wireless pen di casa EZ è estremamente versatile. Nel suo box troviamo il corpo macchina, il blocco batteria, due adattatori RCA maschio e femmina, due grip da 28 e 32 mm, un caricabatterie e un cavo usb. Le batterie non sono incluse. Ma cosa la rende tanto particolare? La sua particolarità sta nei suoi tre modi di utilizzo che la rendono un 3 in 1 davvero ingegnoso. Utilizzo come penna wireless, utilizzo con cavo e utilizzo del suo blocco batteria come battery pack anche con altre macchine. Come? E' molto semplice, la macchina può essere divisa. Svitando le due parti e mettendo l'RCA femmina nel corpo macchina si ottiene una macchina a sé. Invece mettendo l'RCA maschio nel corpo batteria si ottiene un battery pack. Si ottengono due prodotti separati ed utilizzabili singolarmente. Una macchina utilizzabile con cavo RCA classico o una battery pack per rendere qualsiasi altra tua macchina wireless. Ma non finisce qui. Questa incredibile penna in alluminio aeronautico, dal design ergonomico e dalle vibrazioni minime, monta un motore custom svizzero. Ha uno stroke da 3.5 mm, opera ad un voltaggio tra i 5 e i 12 volt, ha 9.000 ripetizioni per minuto, ha una fuoriuscita ago aggiustabile con sistema click da 0 a 4.5 mm e lunga 136 mm dal peso di 205 grammi con batteria e monta un LED display che a rotazione vi indicherà voltaggio, tempo e batteria. I tre pulsanti comodi e intuitivi si trovano accanto al display. Power per accensione, stop montaneo macchina e spegnimento e i pulsanti più e meno per l'aumento o diminuzione di voltaggio. Le batterie da 950 mAh vendute in coppia separatamente sono a litio e ricaricabili. E i tempi di ricarica sono brevissimi, ogni batteria può essere ricaricata completamente in una sola ora ed una carica completa dura circa 2-3 ore per batteria. Per acquistare la Portex V2 firmata EZ basta andare su bodysupply.com o cliccare il link in descrizione. Se hai ancora delle domande o vuoi dirci cosa ne pensi di questa novità scrivilo qui in basso nei commenti. Non scordarti di iscriverti al canale YouTube di Professional Body Supply per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità del mondo tattoo. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao artisti!